Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo a parlare di un personaggio che conoscete tutti, Napoleone Bonaparte. Non ne parleremo come ne parla il libro, il libro va benissimo da questo punto di vista, vi racconta la storia di Napoleone, tutto quello che ha fatto, tutte le date più importanti, quindi non voglio ripetere questo discorso. Noi parleremo di Napoleone in un'ottica un po' diversa, nell'ottica un po' romantica di questo personaggio e un po' nell'ottica contemporanea. E partiamo da una data, il primo dicembre 1805. Se ci fosse un film importante, di un regista importante su Napoleone potrebbe iniziare in due modi, come una serie tv di qualche anno fa che iniziava con gli ultimi giorni di Napoleone a Sant'Elena, oppure se fosse un film celebrativo inizierebbe per forza, con il primo dicembre 1805. La vigilia della battaglia di Austerlitz, che è la più grande vittoria di Napoleone. È la battaglia in cui Napoleone sconfigge, non definitivamente, perché non sconfiggerà mai definitivamente i suoi avversari, ma sconfigge Russia, Prussia e Austria e celebra nello stesso giorno l'anniversario della sua incoronazione. Entrerà nella storia il sole di Austerlitz come simbolo del potere di Napoleone su tutta l'Europa. Ed è da qui che partiamo. Questo è il momento, il picco dello splendore di Napoleone. Ma da dove viene Napoleone? Come ha fatto a diventare imperatore di Francesi? Napoleone nasce in Corsica e poi viene avviato la carriera militare e praticamente è grazie alla carriera militare che noi conosciamo Napoleone, nel senso che durante la rivoluzione francese la rivoluzione ha bisogno di essere difesa, ha bisogno di essere difesa principalmente internamente e esternamente, internamente dalle possibili rivolte realiste, cioè quelle rivolte che vogliono riportare il re al potere, esternamente dai nemici della Francia, degli stati intorno alla Francia, principalmente l'Austria, che non vogliono che si diffondano le idee rivoluzionali. E Napoleone prima difende la rivoluzione all'interno del paese e dopo la difende all'esterno, combattendo contro gli austriaci in Italia due volte, vincendo tutte e due le volte. E sono proprio le campagne d'Italia a dare fama a Napoleone. Napoleone è un generale molto giovane all'epoca e in maniera estremamente abile riesce a battere gli austriaci e praticamente non solo a difendere la Francia, ma addirittura a dare alla Francia nuovi territori. Napoleone viene accolto nel nord Italia come un liberatore, liberatore dagli austriaci, prima di tutto, e questo è un dato di fatto sostanzialmente oggettivo, ma anche come liberatore in quanto portavoce delle idee, delle idee rivoluzionali, libertà, egalità, fraternità. Queste idee Napoleone le porta come pagaglio, perché tutti gli suoi uomini sono, tra virgolette, figli della rivoluzione, cioè combattono consapevoli di difendere la rivoluzione francese, di difendere, non combattono per difendere un re, ma per difendere il loro popolo. Napoleone quindi viene accolto come un liberatore, salvo poi dimostrarsi non esattamente il liberatore che è, perché per lui il nord Italia non sarà una terra a cui regalare la libertà, sarà una terra da gestire, una parte sotto il controllo più o meno diretto francese, una parte invece ridonata all'Austria per raggiungere la pace, e questo non piacerà ovviamente agli italiani all'epoca, lo vedremo l'anno prossimo in Nona quando parleremo di Ugo Foscolo che rimane deluso da questa politica napoleonica. In Italia Napoleone crea le repubbliche Sorelle, sono appunto quattro repubbliche che vengono utilizzate dalla Francia per governare, sostanzialmente per governare parte dell'Italia. e questa situazione viene appunto appoggiata dal direttorio, cioè l'organo che alla fine della rivoluzione francese ha preso il controllo del paese. Fatto ciò il nostro Napoleone rivolge la sua attenzione al nemico principale, quello che lui vede come il nemico principale della Francia, l'Inghilterra. Per colpire l'Inghilterra Napoleone va in Egitto. Ora, per quale motivo? L'Egitto poteva diventare, una volta conquistato, la base principale per colpire l'India, e l'India era il maggiore e più importante protettorato inglese. Gran parte dell'economia inglese, della ricchezza economica inglese veniva dall'India, veniva dai possedimenti in India, dai commerci con l'India. E quindi l'Egitto, idealmente per Napoleone, è la prima tappa per arrivare a mettere in crisi l'Inghilterra. L'Inghilterra, Napoleone è consapevole, è una flotta troppo potente perché si possa attaccare direttamente. E quindi deve, deve agire in questo modo, da questo punto di vista, da quest'ottica, partendo dall'Egitto. Ed è in Egitto che Napoleone affronterà, affronterà, prima di affrontare in Egitto, darà modo al, troverà una serie di beni, farà una serie di scoperte con il suo esercito, portare indietro una serie di testimoni, di testimonianze del suo viaggio, che saranno molto importanti, arricchiranno i musei, principalmente il museo di Torino, ricordiamolo appunto all'epoca, Torino è sotto il controllo francese. Sarà proprio ad esempio in Egitto che i soldati francesi romperanno, in episodio storico, il naso della spinge. La campagna d'Egitto vede un grande dispiegamento di forze. Napoleone porta in Egitto 40.000 uomini e militarmente riesce a sconfiggere il regno dei Mammelucchi, conquista il Cairo e vince un'importante battaglia presso le piramidi. Ma queste vittorie vengono oscurate da un'importante e gravissima sconfitta. È la sconfitta di Aboukir, la sconfitta contro il generale Nelson. Nelson sarà simbolicamente il maggiore avversario di Napoleone pur non combattendolo mai direttamente. Nelson è il famoso ammiraglio inglese, grandissimo eroe, ha perso un braccio, un occhio, alcune parti di organi interni, continuando appunto combattendo sempre in prima linea sulle sue navi. E sarà il vero avversario a distanza di Napoleone, l'avversario che è Napoleone non potrà mai combattere sul suo terreno, è l'avversario che vincerà sempre Napoleone in mare, l'esercito di Napoleone in mare, come nella battaglia di Aboukir dove viene sostanzialmente distrutta la flotta francese e questo crea un grosso problema perché una volta distrutta la flotta i francesi si trovano a subire una seconda coalizione contro di loro. Napoleone non può restare in Egitto a lungo e allora deve organizzarsi e tornare in Francia in fretta e furia per salvare la situazione in Francia e questo lo porterà poi ad arrivare in Francia e a prendere il potere. Questa è la famosa stele di Rosetta. Cos'è la stele di Rosetta? La stele di Rosetta è un pezzo di pietra sostanzialmente che però porta la traduzione di uno stesso brano in tre scritture diverse, gerogrifico, demotico, cioè la scrittura ordinaria della vita quotidiana in Egitto è greco. Fondamentale questa stele perché è l'unico documento che ci resta ad oggi dove possiamo, attraverso il quale possiamo interpretare i gerogrifici perché è l'unico che porta la descrizione dei gerogrifici in paragone con la lingua che conosciamo, cioè il greco. Fondamentale per qualsiasi studio sui gerogrifici e sulla lingua dei gerogrifici. E questo fu uno dei risultati delle campagne napoleoniche, il portare indietro documentazioni così importanti.